Allora aspetta, costruiamo il meccanismo. Tu a Meloni non piaci, guardiamo. Saviano, hai fatto i milioni sputtanando la tua città e poi te ne sei andato a vivere a New York! Non ci venire a pontificare! Puoi dire io con te non ci parlo, come fa Roberto Saviano che mi dà della razzista tutte le settimane ma ogni volta che gli ho chiesto di fare un confronto pubblico sull'immigrazione è scappato. Storie da raccontare che nessuno scrittore racconta, forse perché i camorristi fanno vendere molto di più, ci si fanno le serie televisive, regalano celebrità, ricchezza. Allora noi la prendiamo come una immagine che passa, no? Guardiamola da fuori, cioè c'è uno scrittore, è quello che è il Presidente del Consiglio che ne fa il nome e lo indica. Scurati dice io guardate quando Meloni ha fatto il mio nome mi sono trovato un bersaglio sulla fronte. Esatto e sono contento della sua analisi che ha avuto anche il coraggio di dirlo perché spesso uno tende a nascondere queste paure. Io sono 15 anni che ricevo questo. Queste sono parole di orrore. Io sono uno scrittore, sono un cittadino, non ho il potere non solo del Presidente del Consiglio ma anche del Capo dell'Opposizione. I politici hanno un potere, hanno il Parlamento a loro proporzione. Io sono, no ma, con gli, chiaramente sono emotivamente in queste ore coinvolto perché sto finalmente dicendo quando succedeva a me, quando succedeva a Michela e molti colleghi, zitti, Michela Murgia, o ci scrivevano in solidarietà in privato pensando vabbè ma è un problema loro. Queste parole sono un orrore. Io sono in questo momento in processo contro un boss da 15 anni, Francesco Bidognetti. Quindi lo Stato in questo momento sta processando un boss, un processo lunghissimo, che ha minacciato me e non solo me, ha minacciato il magistrato, Canfiro De Rao, Raffaele Cantone, ha minacciato Rosario Capacchione. Cioè c'è un clan che ha detto pubblicamente, secondo l'antimafia, se condannate i nostri uomini, loro sono i responsabili e lui, indicando me, è quello che condiziona la giustizia con i suoi libri. Arrivano queste persone, arriva Meloni che usa quelle parole. Nota, cosa hanno detto dei scurati? Fa soldi sul fascismo. Vedi, è la stessa logica. Ci sono anche di Fazio, di tutti. Nel momento in cui tu alzi lo sguardo e critichi il potere, il tuo lavoro diventa un furto. Allora, ti pongo per...